Per iniziare, perciò ripartiamo da te. Vietnam, nel 68, l'incontro più ravvicinato con Persegius. Merda, in fondo lo sapevo che quella missione non era finita. Raccogli il materiale sull'attacco a Danang e sottoponi l'uopark. Lo incrocerà con l'M-6. Cerchiamo nomi in codice, parte vita russa con l'NWA. L'importante è trovare qualche indizio. Affermativo. Beh, qui entri in gioco tu. I pezzi grossi ti volevano con noi. Io no, ma mi sono riuscito...